La modifica del titolo quinto della Costituzione non è una priorità, in Molise la vera priorità è la sanità, il lavoro, una migliore condizione di vita per i cittadini, non certo l'autonomia differenziata che anche il Presidente della Regione Toma ha detto di approvare e condividere. Il comitato molisano per Elislein ha immediatamente preso posizione in coerenza con il programma politico della segretaria da poco eletta nelle primarie del PD. Alessandra Salvatore, neo eletta per il Molise nell'Assemblea Nazionale del Partito, spiega in conferenza stampa che l'autonomia differenziata sarebbe una catastrofe per il Sud e per il Molise. Si tratta di un DDL che penalizza ulteriormente il Meridione, purtroppo hanno votato a favore gran parte dei Presidenti delle Regioni, compreso il nostro, errore colossale perché su alcuni diritti, su alcuni temi che sono fondamentali e che sono quelli alla base dell'architettura costituzionale ci sia stata una mancanza di attuazione. Il DDL Calderoli mette una pietà tombale sulla possibilità, ad esempio, dei cittadini molisani di poter godere del diritto alla salute, all'istruzione, ad una vita libera e dignitosa, così come prevede la Costituzione, già è complicato. Quello su cui invece bisogna puntare la rinascita economica e sociale del Sud Italia perché un Sud più forte economicamente fa crescere l'Italia intera, per cui il Comitato avviera presto una raccolta firme in tutta la Regione. Abbiamo elaborato un documento che sottoporremo all'attenzione e alla firma dei cittadini molisani perché pensiamo, noi come Comitato di Elish Lane, ma diciamo come Partito Democratico e penso di poter dire come centrosinistra tutto, come area progressista, che questo disegno di legge debba essere bloccato.